E' qui? Oh, ciao! Oddio! Io mi ricordo che ero felice, che stavo bene in quella classe, che si stava bene con tutti. Ciao! Bella che sei! Ora tu sei sempre più bella. Ma per favore! Tu, lei, Barbara, Valeria, sei più brava nessuna. Poi ci stavano, diciamo, effettivamente. Ciao, Paio. Parlare da uomo e adulti non ne ho stesso parlare da bambini, quindi secondo me è come se uno adesso rialzera un contatore. Guardo, guardo davanti e vedo sto coso. Il tubo, no, non mi ricordo, il nero della galleria. Io prima di entrare nel tunnel le cambiai posto con Maurizio. Il Maurizio non c'è più. Io mi vergognavo come una ladra che ero viva e gli altri no. Sono venute fuori cose che non avevamo mai avuto il coraggio di chiederci. E' come se non ci fossimo mai persi. I quarant'anni non ci sono mai stati. Noi siamo stati feriti nel cuore e nell'animo, ma voi siete stati feriti anche negli occhi. Perché voi avete visto. E' importante quello che avete dovuto superare voi. Quindi ho avuto sempre una grande stima. E' bella. 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 E' bella.